È un piacere darvi il benvenuto all'incontro con la professoressa Barbara Pozzo che si svolge nella serie di conferenze organizzate per l'edizione 2021 di Mantova Architettura. Barbara Pozzo è attualmente professore ordinario di diritto privato comparato presso il Dipartimento di diritto, economia e culture dell'Università degli Studi dell'Insubria di Como. È chairholder della cattedra UNESCO istituita all'Università degli Studi dell'Insubria nel 2018 e che ha come finalità quello di sviluppare e migliorare la conoscenza e la consapevolezza dei diritti umani con particolare riferimento ai diritti delle donne, incluso il loro diritto a partecipare attivamente alla vita pubblica. In termini di trasferimento di conoscenze analizza le questioni relative all'affermazione dei diritti delle donne come diritti fondamentali e uguaglianza di genere. La cattedra UNESCO mira a consentire agli studenti di ottenere un quadro di riferimento rispetto alle principali questioni di uguaglianza e diversità, sia dal punto di vista culturale che giuridico, con specifico riferimento alle donne e al genere. La lezione dal titolo Una stanza tutta per sé, spazi privati al femminile in una prospettiva di law and literature sarà appunto introdotta dalla professoressa. Grazie, grazie mille professoressa Lombardini, sono molto contenta di essere qui con voi questa sera, sono anche entusiasta di essere stata spinta a studiare un nuovo tema, un nuovo tema che si colloca nell'ambito dei miei interessi ma con una prospettiva diversa. Io sono una giurista comparatista, studiare il diritto comparato significa studiare il diritto di paesi diversi e metterli appunto in relazione per vedere quali sono le affinità e quelle che sono invece le differenze, ma allo stesso tempo mi occupo molto di diritto e letteratura, di law and literature, un movimento che è nato negli Stati Uniti ormai un secolo fa, ma che ormai ha radici ferme anche nel nostro contesto europeo e in particolare italiano ed è in questa particolare prospettiva di diritto e letteratura, di law and literature, che mi sono documentata per vedere quale fosse nella letteratura il riverbero, il riflesso della situazione anche giuridica della donna nella società ottocentesca e come nell'ambito di quelli che sono gli spazi del privato questo tipo di situazione si riflettesse. Parto da, diciamo così, una stanza tutta per sé, da Room of One's Own di Virginia Woolf, perché forse nessuno meglio di lei è riuscita a farci capire come il problema degli spazi significa anche per la donna un discorso di emancipazione, di autoaffermazione, di autorealizzazione e partendo da quello che ci racconta Virginia Woolf mi sono in qualche modo persa nei diversi meandri dei discorsi dei giuristi dell'Ottocento che cercavano di mettere la donna in una situazione sicuramente di minor rilievo e di minor prestigio rispetto a quella dell'uomo, ma che allo stesso tempo proprio nell'Ottocento vede nascere i primi movimenti di emancipazione, di riscossione, di autoaffermazione che porta poi in diversi contesti ad un riconoscimento sempre maggiore di quello che è il ruolo della donna nella società. Ho cercato di prendere in considerazione tre diversi ambiti che sono diversi per tradizione, per lingua, per tradizione giuridica e per tradizione letteraria. Parto proprio dal mondo anglosassone perché è qui che Virginia Woolf scrive il suo Una stanza tutta per sé. Allo stesso tempo cerco di illustrare come l'ideale della donna nell'Ottocento questo angelo nella casa, questo angelo nel focolare si sia riverberato proprio anche nella letteratura del tempo che a sua volta rispecchia tutta una serie di regole giuridici vigenti in quel contesto. Poi passerò ad illustrare invece una prospettiva in parte diversa perché in Francia tre grandi scrittrici che scrissero quasi tutte, quasi sempre sotto pseudonimo maschile, George Sand, Hortense Allard e Marie Dagoux abbiano in certo modo rivoluzionato quello che è lo spazio domestico anche in vista di fungere a luogo dove potevano scrivere, dove quindi potevano realizzarsi nella loro professione. Un discorso ancora diverso invece quello che affronterò per la Spagna dove uno scrittore contemporaneo alle tre scrittrici francesi che vi ho appena citato, Juan Valera, descrive nelle sue novelle che trovano diciamo così la loro collocazione geografica nell'Andalusia del tempo, descrive appunto queste magioni in cui era previsto un doppio alloggio per gli uomini e per le donne, evidentemente fonte di antiche tradizioni precedenti a quella borghese che si va ad affermare nell'Ottocento. E poi una parola mi sembrava opportuna spenderla sul fatto che comunque durante questa epoca in cui sembra disegnarsi uno spazio privato per le donne, uno spazio pubblico per gli uomini, comunque prende il via anche quell'importante tradizione che è il mondo dei salotti, cioè un mondo che è sì in casa ma che allo stesso tempo si apre al pubblico, si apre allo spazio pubblico e dove spesso la donna ha un ruolo importante. Ed allora cominciamo proprio con il riferimento che ho scelto per il titolo che è quello a Virginia Woolf con A Room of One's Own. È un libro che è stato pubblicato giusto per chi non lo sapesse o se lo volesse ricordare nel 1929 ed è tratto da alcune conferenze che Virginia Woolf tiene a Newham and Gerton che sono due college femminili dell'università di Cambridge l'anno precedente, quindi siamo nel 28. Virginia Woolf parla delle ragazze, ragazze che sono state ammesse all'università anche da poco tempo e in questo scritto rivendica per le donne uno spazio importante all'interno della società ma allo stesso tempo anche uno spazio fisico all'interno della casa dove la donna possa in qualche modo coltivare la propria realizzazione anche di tipo professionale come guarda caso quello dello scrivere. Ed è da questa diciamo così rivendicazione di Virginia Woolf che sono partita per comprendere quali fossero in effetti gli spazi all'interno della casa che le donne potevano impiegare, quali fossero i mezzi per le donne per determinare l'andamento della casa, quali fossero i diritti delle donne sulla casa in quel particolare contesto storico. Ora è vero che Virginia Woolf ci parla di rivendicazioni ma è in un contesto storico dove in realtà le suffragette avevano già lungo lottato per la rivendicazione dei loro diritti e dove le donne avevano già ottenuto il diritto di voto alla fine della prima guerra mondiale ma Virginia Woolf ovviamente scrive andando ad analizzare quella che era stato quello che era stato il ruolo delle donne soprattutto scrittrici in Inghilterra nel secolo passato e domandandosi quali fossero stati i suoi spazi pubblici e privati così come riverberati nei romanzi nelle novelle del tempo e mi sembra proprio per questo motivo interessante analizzare queste prospettive nella particolare luce del Law and Literature Movement cioè di questo movimento che mette insieme diritto e letteratura e che cerca di analizzare attraverso la novella il romanzo quello che è stata quella che è stata quella che è stata la percezione delle regole quella che è stata diciamo così l'idea del diritto della giustizia dei giuristi nelle novelle che via via si sono affermate nel corso del tempo e in questo particolare caso nella nella prospettiva che andiamo ad analizzare noi questa sera è quella di in qualche modo comprendere come la letteratura ci possa insegnare qualcosa sulla particolare situazione della donna nella società ma soprattutto dei suoi spazi più intimi nella sua casa allora bisogna dire che proprio in Inghilterra il discorso dell'affermazione di diritti al femminile ha una lunga tradizione perché già nel 700 Mary Wollstonecraft aveva ribadito che le donne dovevano avere una formazione adeguata ad una posizione nella società e piuttosto che considerare le donne come oggetti di ornamento per la società di proprietà del proprio uomo o addirittura come meri oggetti di scambio o d'acquisto mediante il matrimonio avrebbero dovuto essere considerate come esseri umani che meritano gli stessi diritti fondamentali degli uomini. Nel suo Vindication of the Rights of Women Mary Wollstonecraft sottolinea come in realtà fin dall'infanzia si insegna alle donne che la bellezza è lo scettro che in qualche modo comanderà sia la mente e modellerà il suo corpo e in questo modo la donna finirà nella sua gabbia dorata contenta di adorare questa prigione. E quindi sin dal 700 il discorso della rivendicazione dei diritti per le donne particolare nel contesto inglese è molto presente. Nel secolo successivo abbiamo Harriet Taylor Mill che con il saggio di Enfranchisement of Women nel 1851 l'emancipazione delle donne ribadisce quale deve essere il ruolo delle donne nella società. Si noti peraltro che la prima edizione dello scritto venne pubblicata sulla Westminster Review ma con il nome del marito molto famoso John Stuart Mill che pochi anni dopo con un suo scritto The Subjection of Women, la servitù delle donne, scrisse nel senso di rivendicare un ruolo migliore per la donna ma soprattutto sottolineò come le leggi che attualmente regolamentano i rapporti tra i due sessi che sottomettendone uno all'altro non solo sono sbagliate in sé ma oggigiorno costituiscono uno dei principali ostacoli al progresso dell'unità e della società civile. Quindi questa situazione in cui le donne rivendicavano i loro diritti e non soltanto loro anche studiosi famosi, filosofi, pensatori famosi, statisti famosi sottolineavano come il fatto di avere un'adeguata tutela dei diritti delle donne fosse segno di civiltà per l'intera società nonostante questa tradizione che risale al 700 tuttavia per gran parte dell'800 da un punto di vista giuridico rimane accreditata la cosiddetta dottrina della Spousal Unity o dottrina della Coverture of Wife Allora questa teoria risale anche lei al 1700 ad un famosissimo giurista che si chiama William W. Blackstone che nel 1765 scrive i suoi Commentaries on the Laws of England e in questi Commentaries on the Laws of England noi troviamo il principio per cui under the common law a married woman had no legal identity apart from her husband quindi nel common law che è il diritto dell'Inghilterra una donna sposata non aveva alcuna identità separata da quella del proprio marito come veniva giustificata questa teoria di assoluta dipendenza della donna nei confronti dell'uomo veniva giustificata in questo modo If husband and wife were one body before God they were one person in the law and that person was represented by the husband e quindi se marito e moglie erano un solo corpo davanti a Dio davanti alla legge erano una sola persona e quella persona era il marito quindi soprattutto all'età vittoriana le donne non hanno diritto di voto non possono avere proprietà private non possono agire in giudizio per proprio conto addirittura la stessa moglie è considerata proprietà del marito e tale proprietà si estende al corpo e all'anima ed è proprio per questo motivo che da un punto di vista giuridico la moglie non può apporsi ai rapporti sessuali richiesti dal marito e non può denunciarlo per violenza e mancanza di suo consenso ciò porta in questo particolare ambito a considerare una netta separazione tra la sfera pubblica dispettanza degli uomini rispetto a quella che è la sfera privata che è invece dispettanza delle donne è in questo contesto che trova la sua origine quell'ideale di donna angelo del focolare e una famosa poesia di Coventry Patmore pubblicata nel 1854 the angel in the house detta lo stereotipo classico della donna ideale durante l'epoca vittoriana casta pura dedita al marito e all'educazione dei propri figli e priva di propri desideri vediamo questa poesia grazie 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 aiti grazie a tutti Ma che cosa ci dice Mrs. Beaton a proposito dell'ideale della donna? Nella sua presentazione della padrona di casa in questo manuale l'autrice mette nella bocca a Oliver Goldsmith che è stato l'autore del Dicario di Wakefield, uno dei libri più letti tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo. Guardate, lo trovate citato in Middlemarch di George Eliot, in Emma di Jane Austen, in David Copperfield e nel racconto di Due città di Charles Dickens, in Frankenstein di Mary Shelley, in The Professor e Villette di Charlotte Bront, in Piccole donne di Louisa May Eilcott e anche nei dolori del giovane Werther e in Wilhelm Weinster, gli anni dell'apprendistato di Wolfgang Goethe. Quindi in questo libro super citato che in qualche modo forniva un punto di riferimento, Oliver Goldsmith, il suo autore, riprende questo ideale di donna. E vediamo qual è. Nella vita la vergine modesta, la moglie prudente, la matrone accorta, sono molto più utili dei filosofi contoga, delle eroine spavalde o delle regine arpie. Con lei che renderà felici marito e figli, che terrà il primo lontano dai vizi e crescerà i secondi nella virtù, è di natura ben più nobile di quelle signore che vengono descritte nei romanzi, la cui sola occupazione è assassinare il genere umano con le frecce della loro faretra o con gli occhi. Tuttavia, come anticipavo prima, questa netta separazione delle sfere di influenza pubblico e privato non corrispondeva da un punto di vista giuridico alla proprietà della casa da parte della donna sposata, ma nemmeno ad una sua possibile comunione di proprietà sulla casa e infatti ed è solo verso la fine dell'Ottocento che le cose cominciano a cambiare con il Married Women's Property Act del 1882 che la casa borghese comincia a essere considerata anche di proprietà della donna. Ma fino a questo momento e anche nella letteratura quello che vediamo è che era molto più facile in realtà che vi fossero degli spazi interamente riservati al duomini piuttosto che alle donne. Il fumoir, il bigliardo, lo studio, questi sono stanze che non sono tutte per le donne, sono tutte per gli uomini e che in un certo senso fanno comprendere come il dominio patriarcale negli spazi privati fosse sicuramente prevaricante. Una cosa interessante che ho ritrovato sempre nel libro di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, è una citazione dal Memoir of Jane Austen, scritto dal nipote della scrittrice James Edward Austen Lee, in cui il nipote mette in evidenza come per Jane Austen fosse stato molto complicato scrivere in una casa, sì borghese ma non particolarmente abbiente, in cui mancava del tutto una stanza perché la zia si potesse concentrare a scrivere e il nipote a questo proposito commenta come riuscisse a fare tutto questo è sorprendente perché non aveva uno studio proprio in cui rifugiarsi e la gran parte della sua opera deve essere stata scritta nella stanza di soggiorno comune dove era soggetta a ogni sorta di interruzioni casuali. Eppure nonostante tutto, come sapete Jane Austen fu molto apprezzata e contribuentissimo anche a delineare tutta una serie di figure femminili che mettevano in evidenza quello che era lo status delle donne ai tempi. Se andiamo a vedere tra i diversi modelli che Jane Austen ci narra, forse la più indipendente, almeno nella mia prospettiva di giurista, è Emma. Perché? Perché è priva di problemi economici, perché non è ancora sposata, quindi non c'è nessuna doctrine of sposal unity che si possa applicare perché vive nella casa con l'anziano padre e perché in questo senso domina completamente la casa, quindi domina completamente gli spazi. Possiamo ora vedere almeno brevemente quello che è successo in Francia, anche qui non si può dire che non vi fossero in qualche modo delle donne all'avanguardia già nel Settecento. Olympe de Gouges è una di queste che nel 1791 scrive la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Devo però anche dire che Olympe de Gouges, forse perché si confrontò in modo piuttosto aspro con Robespierre, l'unico diritto di uguaglianza che riuscì ad ottenere fu quello di essere ghigliottinata al pari di qualsiasi altro uomo che si era contrastato con Robespierre alla fine del Settecento. Ma subito dopo l'avvento di Napoleone, Napoleone dirà il ricordo delle mie battaglie, si verrà dimenticato ma quello che verrà ricordato sarà il mio codice. Ecco in questo codice che tuttora è vigente in Francia, che cosa viene ripreso? Viene ripreso un sistema che codifica chiaramente l'ideale di famiglia borghese patriarcale. Guardiamo soltanto alcune norme di questo codice che poi verrà ripreso quasi alla lettera nel primo codice unitario italiano del 1865, articolo 213 del codice civile. Il marito deve protezione a sua moglie, la moglie deve obbedienza a suo marito. Articolo 214, la donna è obbligata ad abitare con il marito e deve seguirlo ovunque e gli decida di stabilire la propria residenza. Il marito è obbligato a riceverla e a fornirle tutto ciò che è necessario per i bisogni della vita a seconda di quelle che sono le sue, a seconda di quella che è la sua situazione economica e finanziaria. Andiamo oltre. Articolo 1421, è il marito che amministra da solo tutti i beni della comunione. Egli può vendere, alienare, ipotecare senza nessun bisogno di ricorrere al consiglio o all'accordo con la moglie. In più, 1428, il marito ha l'amministrazione di tutti i beni personali della moglie e può esercitare da solo tutte le azioni, e si intendono in questo senso le azioni giudiziali, mobiliari e possessorie che appartengono alla moglie, che sono di titolarità della moglie. E quindi, in sostanza, anche la donna più ricca, nel momento in cui si fosse sposata, tutto quello che era di sua proprietà veniva ad essere gestito ed amministrato dal marito. Ma in questo contesto si collocano anche tre, direi, grandi scrittrici del tempo, che sono Hortense Allard, Georges Saint e Marie Dagou, che intraprendono nel loro percorso una reinterpretazione di quelli che sono gli spazi domestici che devono in qualche modo mettere insieme sia i loro interessi letterari, cioè la loro realizzazione professionale, con quelli che sono, come dice la stessa Georges Saint, le loro preoccupazioni di madri. E andiamo a vedere un po' più da vicino queste tre scrittrici. Amantine Lucille Aurore Dupin nasce nel 1804 e muore nel 1876. Sono tutte e tre scrittrici che nascono e muoiono nell'Ottocento e sono più o meno coetanee. Scrive sotto lo pseudonimo di Georges Saint. Hortense Allard, anche lei, in 1801-1879, scrive sotto lo pseudonimo di Saman Lesbats. Marie Dagou scrive sotto lo pseudonimo di Daniel Stern. Anche lei nasce nel 1805 e muore nel 1876, quindi vedete che l'epoca è la stessa. Che cosa ci raccontano queste tre scrittrici? Che cosa ci lasciano comprendere di quelli che sono gli spazi privati delle loro case? Oppure che cosa ha significato per alcune l'assenza di una casa? Cominciamo con Georges Saint. Nella sua autobiografia, Georges Saint scrive, il suo art de ma vie, che a partire dal momento in cui si era sposata, in cui si era celebrato il matrimonio, viene letteralmente espropriata dalla sua casa. Quindi, anche se questa bellissima magione di Noan era stata ereditata da lei, dalla nonna, in forza delle leggi allora in vigore, era il marito, Casimir du Devon, che aveva sempre gestito, ma soprattutto dominato, tutta la sfera domestica. Saint scrive come era arrivata a rendersi quasi invisibile nella sua stessa casa, a rinchiudersi nella niche, nella nicchia più piccola possibile della sua stessa casa. Ma allora questa descrizione di lei e del suo spazio di lavoro suggerisce che probabilmente cercava una via di fuga, un ambito di sicurezza, forse anche dal marito, insieme al desiderio di essere vicino ai suoi figli e cerca di mettere d'accordo le sue aspirazioni letterarie con le cure materne che voleva prestare ai suoi figlioli. E qua troviamo una bella descrizione nel suo libro. La mia stanza a quel tempo era il vecchio camerino di mia nonna perché aveva solo una porta e un passaggio per una sola persona al massimo. I miei due figli occupavano la stanza adiacente, sentivo il loro respiro e potevo vegliare su di loro senza disturbare il loro dormire. Questo camerino era così piccolo che con i miei libri, i miei erbari, le mie farfalle, i miei minerali non c'era spazio per un letto. Così mi arrangiai con una maca. Questo passaggio difficilmente suggerisce la possibilità di essere padrona della dimora, sostenuta nella letteratura che abbiamo visto fino adesso, anche perché appunto il diritto non glielo permetteva in nessun modo. Al contrario, George Sand ritrae se stessa in cerca di un privacy all'interno di uno spazio e la casa che si suppone fosse costruito per essere privato e femminile. E purtroppo però Sand si presenta quasi, si sente quasi come un'intrusa nella sua stessa casa, proprio perché le leggi sul matrimonio accordavano ai mariti, l'autorità sulle mogli, sui figli e sulla proprietà comune. Quando George Sand rientra a Parigi, rientra da Parigi a Noa negli anni 30, dice di non sentirsi più nemmeno a casa sua, tanto era straniata da quelle stanze che pure l'avevano vista crescere. Ed è solo dopo il divorzio che Sand descrive i suoi spazi in modo positivo, come un luogo dove poteva realizzare se stessa. E qui c'è questa bellissima illustrazione degli spazi. Aveva una grande stanza al pian terreno, ammobiliata con un piccolo letto di ferro battuto, ma anche con una scrivania e una sedia. Quando gli amici se ne erano andati e le porte erano chiuse, senza disturbare nessuno, potevo tranquillamente uscire in giardino, che era murato come una cittadella. Potevo lavorare per un'ora, potevo entrare ed uscire, contare le stelle che sparivano nel cielo, salutare il sole nascente. E finalmente, potevo finalmente sentirmi come fossi dentro la casa deserta dei miei sogni. Questo era forse il luogo dove, giusto o sbagliato, mi sentivo soprattutto. come a dire che fino a quando non si era titolari, possessori di uno spazio privato, la donna non riusciva in nessun modo a realizzare se stessa. Passiamo alla seconda scrittrice, anche lei molto nota, seppur meno famosa di Georges Saint all'epoca, Marie d'Agu. Marie d'Agu nella sua novella Valencià racconta come l'interprete principale si è sorpresa di trovare la sua amica aristocratica, Rosanne, in un appartamento di modeste dimensioni. Ma Rosanne cosa le risponde in questa novella? le racconta di avere lasciato il marito dopo due anni di matrimonio perché l'annoiava e il marito, in forza delle leggi vigenti, l'aveva obbligata a vivere con metà di quanto è la stessa che aveva portato in dote. tuttavia Rosanne è contenta del piccolo appartamento in cui vive perché è uno spazio tutto suo inaccessibile alla noia, alla discordia e soprattutto alle bugie. Quindi la casa come spazio domestico di realizzazione personale è qualcosa che viene presentato in questa novella come qualcosa che costa sacrifici ma che vale la pena di fare proprio per raggiungere una propria autonomia e una propria indipendenza. In parte questo racconto era un racconto autobiografico perché anche Marie D'Agu aveva lasciato il marito per seguire Franz Liszt e dopo l'abbandono del musicista si era trovata senza casa che poi aveva ricostruito la sua immagine e somigliato. Questa idea dello spazio domestico di realizzazione personale che però deve in qualche modo confrontarsi con quelle che sono le leggi del tempo viene ripreso in un altro racconto di Marie D'Agu, Nell'IDA in cui la protagonista appunto Nell'IDA che soffre tutta una serie di disavventure, i maltrattamenti del marito e quant'altro però alla fine conosce la giustizia perché è l'unica che sopravvive e finalmente come vedova riesce a rientrare in possesso della sua casa e dei suoi spazi. Ora, da un altro punto di vista è interessante vedere anche come si colloca Hortense Allard Hortense Allard si sposa solo molto più tardi e inizialmente ha due figli fuori dal matrimonio quindi per un lungo periodo di tempo rimasta orfana, diventa governante presso famiglie altolocate a questi figli, conduce comunque una vita errante per più di dieci anni ed è quindi quella senza casa è una persona molto intelligente, molto brillante che intrattiene relazioni con i tuoi lettuali famosi come Chateaubriand, come Sainte-Beouf ma nelle sue novelle, in particolare in Settinia quello che lei lascia intendere è che il fatto di non avere la casa di non avere una casa da badare beh, può essere quasi quasi un vantaggio infatti in Settinia il ruolo della protagonista della questa novella incarna l'ideale di una donna superiore preoccupata solo delle questioni che riguardano il suo intelletto e semmai il suo cuore si sposerà certo ma soltanto dopo aver assaporato la sua indipendenza viaggiando e coltivando i suoi interessi senza essere schiavizzata da l'onere di una casa e veniamo infine all'ultimo scrittore che ho scelto per dare un'occhiata a quelle che sono le rappresentazioni degli spazi ma anche di quelli che sono diciamo così i diritti delle donne nella letteratura di come vengono rappresentati e qui il discorso forse si fa un po' più diciamo più complesso ma è altrettanto interessante ora Juan Valera y Alcalá Galliano più o meno contemporaneo delle altre scrittrici che vi ho appena presentato è uno scrittore realista spagnolo di origine andalusa allora voi dovete sapere che la Spagna fino alla fine del secolo XIX non ha mai avuto un codice civile ce l'ha soltanto alla fine quindi le tradizioni sopravvivono molto di più le tradizioni locali i cosiddetti fueros i cosiddetti consuetudini locali che sopravvivono molto più a lungo che in Francia che invece vede subito da subito la sua unificazione anche giuridica nel 1804 per non parlare dell'Inghilterra che da un punto di vista giuridico è accentrata sin dal Medioevo quindi Juan Valera scrive in una dimensione in cui sicuramente la famiglia borghese ha un suo diciamo così un suo successo una sua affermazione ma allo stesso tempo è anche molto radicato con quelle che sono le tradizioni del luogo cioè delle case andaluse e soprattutto Juan Valera è uno scrittore che pone al centro delle sue novelle protagoniste femminili e di cui descrive anche attentamente gli spazi ora come vi dicevo la società spagnola non è certo meno patriarcale di quella francese o di quella inglese e il codice che verrà del 1889 riprende quasi alla lettera gli articoli del codice civil francese del 1804 tuttavia nel contesto particolare nel particolare contesto regionale in cui lui scrive che sono che è quello andaluso ma in particolare in particolare quello delle città della cordigliera subetica sopravvivono antiche tradizioni e le case delle famiglie più ricche propongono una configurazione di doppio alloggio in cui persone di stato sociale molto diverso vivevano con una chiara gerarchia e in queste novelle troviamo anche una diversità di spazi sufficientemente differenziata per stabilire una chiara divisione di genere in uso nell'architettura delle case del tempo in una novella passa nel 1874 che si chiama Juan scusate Pepita Jimenez l'autore Juan Valera ripropone una divisione degli ambienti tra abitaciones femmininas e abitaciones masculinas qui appare invece evidente a differenza di quello che abbiamo visto in Francia e in Inghilterra come se venisse quasi riproposto il gineceo di antiche origini degli spazi specifici per la signora che ha un suo spazio in casa composto da diversi annessi particolarmente puliti così ci racconta Valera nel romanzo l'area più intima riservata della signora è composta da tre camere comunicanti la camera da letto la toiletta ma anche l'ufficio l'arredamento di queste stanze è ricco ma è soprattutto comodo e pratico con mobili che trascendono il gusto regionale il tocco femminile è accentuato dalla presenza di piante gabbie di uccelli con cui nell'espressione di Valera si poeticizzano i soggiorni nel caso in cui la donna poi non sia maritata non si accontenterà secondo Valera solo degli uccelli avrà anche un cucciolo o un gatto per farsi compagnia se è possibile questi locali delle donne sono con le finestre che si affacciano sul giardino cercando un'atmosfera intima e a contatto con la natura all'ufficio possono accedere solo gli amici o i collaboratori domestici ma questo ci fa capire che l'ufficio non è solo uno spazio quindi di lavoro ma anche un ritrovo sociale e una sala di lettura se andiamo a guardare invece quelle che è la descrizione delle abitazioni masculine e lo troviamo nel romanzo Las Illusiones del dottor Faustino la camera del padrone è separata dalla camera della signora a volte addirittura all'estremità opposta della casa delle stanze che Juana Fresco ossia il personaggio principale del dottor Faustino ha nella sua casa a Villa Bermeja si distingue come qualcosa di raro una biblioteca scelta e ricca però attenzione ha anche una stanza con una piattaforma per tirare di sciabola e di fioretta e un trapezio per fare esercizi ginnici quindi anche qui nelle descrizioni l'uomo nei suoi spazi può essere accompagnato da animali ma attenzione a differenza di quelli che sceglie le donne sono o levrieri o cani legati alla caccia d'altra parte se la donna sceglie di essere aiutata nelle faccende domestiche da uno più cameriere che le tengono anche compagnia l'uomo ha un suo servitore in generale però va anche sottolineato che l'uomo passava meno tempo nelle sue stanze rispetto alla donna sia per lavorare fuori ma anche per passare gran parte del suo tempo libero in luoghi dove si leggevano i giornali si fumava si chiacchierava si giocava a maliglia a tripletta forse a scacchi domino e dama così ci racconta Juan Valera ma diciamo che questa è una visione che ci porta in un mondo molto particolare quello dell'Andalusia quello di un determinato contesto anche sociale quindi di classi particolarmente abbienti accanto però a questa discussione tra pubblico e privato tra quella che è la dimensione della donna e quella che è la dimensione dell'uomo quella che è la dimensione del privato e quella che è la dimensione del pubblico occorre però ricordare che indipendentemente da questi diciamo così da queste narrazioni che sicuramente sono interessanti per capire certi ambiti e certi contesti a partire dal settecento se non ancora prima c'è un'apertura dei cosiddetti salotti quindi c'è uno spazio della casa il salotto che viene aperto al mondo esteriore e dove spesso una donna accolta riceve letterati artisti filosofi e politici e dove in un certo senso la donna accolta è giustificata tenete presente che proprio nelle novelle di Juan Valera era meglio che le donne leggessero per conto loro che non fossero viste leggere perché era qualcosa che non stava bene quasi come farsi il bagno troppo di frequente ma invece nel mondo dei salotti la donna erudita la donna accolta la donna che sa dialogare non peraltro viene chiamato anche questo un periodo della conversazione in cui la donna comincia a svolgere un suo certo ruolo è in qualche modo giustificata e in certi casi addirittura svolge un ruolo anche da un punto di vista politico importante ad esempio Chiara Maffei è stata molto importante con il suo salotto milanese non soltanto per avere ricevuto illustri letterati e musicisti ma anche perché è proprio nel suo salotto che si incontravano i carbonari e si tramavano le sorti della futura della futura unità d'Italia ecco diciamo che questo tipo di situazione ben descritto in questo libro di Verena van der Heiden Rince o Europeische Salons ma tradotto anche in italiano i salotti d'Europa nella cultura nell'arte nella politica e nella diplomazia si vede come gradualmente lo spazio privato si apre al pubblico e dove la donna gradualmente riesce ad intessere tutta una serie di rapporti non soltanto pubblici ma anche estremamente importanti chiaramente si tratta di poche situazioni rispetto alla molteplicità e pochissimo sappiamo devo dire di quello che era invece l'ambiente delle campagne perché quello che ci è stato raccontato e quello che ci è stato tramandato è quello che avveniva nelle case dei ricchi quantomeno delle famiglie borghesi di un certo tenore e di una certa levatura mentre pochissimo sappiamo non abbiamo narrazioni di quello che avveniva nelle case nelle magioni nelle fattorie di campagna dove nessuno in qualche modo ha lasciato ha tramandato quelli che erano i rapporti all'interno del 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 foyer del focolare e quelli che potevano essere appunto se mai ce n'erano di spazi riservati alle donne si dubito piuttosto credo che ci fossero spazi comuni dove le donne coltivavano con gli altri esponenti della famiglia ma anche con altre donne che provenivano dall'esterno attività come potevano essere il cucito o altre cose però abbiamo molte meno testimonianze su quello che era lo spazio della donna in case rurali e per finire chiaramente da questa breve da questo breve escurso abbiamo potuto capire come la presenza negli spazi pubblici o spazi privati che vengono ridisegnati per permettere la propria realizzazione si accompagna ad un sempre più evidente ruolo della donna nella società chiaramente però questo tipo di evoluzione non può essere compreso interamente se non si facesse riferimento anche a quello che potrebbe essere diciamo così l'oggetto di un'altra lezione ossia quello che è il graduale accesso delle donne all'istruzione vi ricordo che è soltanto a partire dalla metà dell'ottocento che ad esempio in Francia si dice che ci devono essere delle scuole almeno elementari anche per le bambine che è solo a partire dagli anni 70-80 che le donne possono accedere alle università e che soltanto a partire dalla fine della prima guerra mondiale possono accedere alla maggior parte delle professioni e che l'indipendenza economica il diritto di voto e la rappresentanza politica arriveranno tra la fine della prima guerra mondiale e come in Italia e in Francia solo alla fine del secondo conflitto mondiale quindi la strada è ancora lunga e gli spazi da ridisegnare sono tanti io però volevo concludere anche dicendo che questo incontro con Mantua Architettura mi ha dato la possibilità l'occasione l'incentivo per studiare un tema a cui non mi ero mai tanto dedicata ma sono molto contenta di averlo fatto e spero che questo possa essere l'inizio di un percorso e di un dialogo appunto con il Politecnico di Mantua ancora più propizio negli anni a venire grazie mi pregio sinceramente di ringraziare la professoressa Barbara Pozzo per la lezione che ha affrontato la questione dei diritti delle donne da un punto di vista molto stimolante che mette a confronto le prospettive del movimento Loe di Cira con l'approccio proprio come ha anticipato la professoressa Pozzo del diritto comparato dove la comparazione non può che significare conoscenza comprensione e quindi soprattutto invito alla tolleranza per questo ci uniamo con la gratitudine espressa da Mantua dell'architettura e dal Politecnico di Milano alla professoressa Pozzo grazie davvero grazie a voi grazie a lei